benvenuti benvenuti al nuovo incontro di parole musica in terra vulcanica un format voluto fortemente dal maestro filippo del iso per l'associazione culturale altanur all'interno delle connessioni in attese che è il nostro grande contenitore annuale tematico in cui praticamente inseriamo tutta una serie di attività culturali e ludiche questo nuovo format è particolarmente interessante perché vuole coniugare incontri che hanno una base letteraria poetica musicale e ancora altro quindi in realtà mi fa molto piacere che questa sera abbiamo qui con noi praticamente la possibilità di presentare questo libro e abbiamo anche i giovani ragazzi del laboratorio del maestro ascione io vorrei passare la parola direttamente a filippo del iso che è praticamente una persona eclettica vedrete adesso insomma apprezzerete la sua diciamo la sua performance filippo ti lascio la parola grazie maria veramente sempre bello venire qui a san giorgio a cremano chissà chi è questo san giorgio no grande guerriero delle milizie terrestri stop non aggiungiamo altro questa situazione di coniugare la musica la poesia la letteratura l'emozione l'arte in genere è un cavillo sempre presente nella mente dei musicisti perché il musico anche dalla l'antichità di boezio è uno sciamano essere sciamani è qualcosa di quasi misterioso no termine greco mistico mistero e da cui deriva la mistica a che cosa serve l'arte l'arte serve ad elevare lo spirito ma l'arte è anche una tangenza cioè toccare con mano qualcosa che noi viviamo quotidianamente il quotidiano lo dico spesso in molti incontri si scontra violentemente con l'arte perché l'arte è una espressione dell'artista è veicolata da un grande pudore ma il pudore non è concesso all'artista perché l'artista deve in un certo senso essere performer a questo punto abbiamo tanti artisti che sono eclettici nella terra vulcanica della campania attenzione perché non dobbiamo limitare il giro a quel raggio piccolo che può essere la provincia di napoli oppure la zona come dire quella desuliana ma abbiamo una storicità della cosiddetta campania felix dove questa felicità è corroborata da tante ecletticità tante genialità ma poco come dire apprezzata cosa vuol dire l'apprezzamento l'apprezzamento vuol dire pagare prezzo noi parliamo di felicità la felicità molte volte è agognata ma la felicità purtroppo non basta dico sempre che la felicità deve avere una risposta secondo una legge definita legge della conservazione dell'energia quello che do ricevo e il maestro supremo di questo è dante alighieri che attraverso la legge del contrappasso giudica un'intera società ponendola al cospetto di tante realtà che vengono appagate da un concetto di ritorno del proprio dare al proprio quindi ricevere a questo punto è naturale che io vado a vedere quelle che sono le sensibilità di corrispondenza di risonanza tra di noi dal punto di vista artistico abbiamo delle risonanze e selezioniamo ecco selezionare brutto termine in realtà individuiamo la disponibilità di quegli artisti che che hanno al proprio interno una componente di natura eclettica a questo punto l'eclettismo affiora prepotentemente in un artista che io ho definito la mia sposa incredibile a dirsi letteraria artistica perché perché Rita Pacilio che presenteremo la farò accomodare alla mia destra perché dovete sapere che Jean-Luc Godard ha fatto un film dove viene affermato cura la tua destra perché cura la tua destra perché colei che sta a destra ti offre il cuore e quindi noi dobbiamo proteggerlo questo cuore dalle insidie dell'invidia in video vedere chiaro perché quell'artista eclettica cosa dice Tarkovsky Tarkovsky dice che la profondità è una perdita in larghezza ogni artista ha la propria profondità ne parlavo prima con Pino Vetromile che un altro guerriero della luce potremmo dire che si prodica a 360 più 1 gradi per veicolare la bellezza dei poeti deletterati raccogliendo delle antologie come noi musicisti cerchiamo di dare attraverso il silenzio del suono attraverso la potenza della musica quell'invisibile che intangibile la musica è intangibile pensate che si parla di ineffabilità cioè di iperdefinizione della stessa quando la realtà è invisibile bene invito Rita Pacilia al mio fianco e apriremo la serata per questo libro particolarissimo dal titolo il bambino d'oro a te la parola presentati buonasera grazie per l'invito io non conosco la signora non ci siamo nemmeno presentate prima e lo faremo dopo e grazie per l'ospitalità per l'accoglienza per le belle parole introduttive io mi presento come una creatura di questo mondo di questa contemporaneità con tanti talenti quello sì ma non è merito mio sicuramente e con la necessità di comunicare o comunque l'urgenza di mettermi in contatto con le persone quindi con le altre anime e con le cose perché anche le cose ci ascoltano anche le cose assorbono da noi la nostra energia quindi che sia un'energia positiva stasera e tante parole in cui insomma poterci ritrovare un po' tutti insieme grazie prendo questo libro apro 15 novembre 2022 a filippo con il bene rita questo romanzo ha una genesi davvero speciale genesi speciale perché con rita abbiamo come dire scoperto nel tempo una certa affinità ma ho conosciuto rita guarda caso in una condizione stranissima cioè c'erano tante persone importanti c'era Pino Vetromile ci stava Susanna Glavash ci stava Maria Gabriella Mariani che è una pianista quindi nel settore mio musicale e io vedendo tutte queste sfumature c'era di Tapacidio logicamente e ci stava la presentazione di un'antologia bellissima dove si parlava del mare perché noi siamo il mare il mare di Napoli è la bocca di un vulcano e noi stiamo parlando proprio di poesia, musica, letteratura in terra vulcanica quindi che cosa nasce una domanda spontanea Rita Pacilio è molto nota in Italia e anche all'estero ma come è nota? noi siamo tutti noti, no? notare vediamo in internet non conosciamo una persona interroghiamo uno dei motori di ricerca pluripremiati del mondo di nome Google entriamo all'interno e vediamo libro di poesie libro di poesie libro di saggio libro di critica traduzioni c'è una marea di qualità performer vocalist sa cantare sa recitare sa scrivere ma addirittura come si sarebbe augurato qualcuno di solito quando un musicista diventa produttore diventa competente cioè entra all'interno del meccanismo diciamo di produzione diventando militante dell'arte le performer questa donna è una performer ci rimette la faccia si chiamano front men cioè in questo caso front woman ok bello questione di genere no siamo in prima fila come una trincera e quindi esterna una capacità di natura musicale perché un giorno io le chiedo Rita come mai fai la performer e lei mi racconta che da bambina ha rischiato di andare allo zecchino d'oro wow dopodiché succede qualcosa di molto particolare perché la vita è la maestra di tutte le arti addirittura c'è una contropartita della vita e entreremo poi nell'argomento scottante di questo libro dove praticamente c'è una coniugazione tra Colette e Flaubert e i due si scambiano lettere d'amore perché parliamo di amore platonico signori non parliamo di amore sessuale perché l'amore sessuale non sappiamo proprio che farcela quindi l'amore platonico ci dice scusami Colette Flaubert che parla ma possiamo parlare d'amore? no come? non possiamo parlare d'amore? no si può parlare d'amore solo quando l'amore è finito cosa? l'amore finisce certo parliamo di un amore temporale che dovrebbe assurgere ad amore spirituale ma la vita piega la vita inginocchia e quindi quindi si può parlare d'amore si può scrivere d'amore solo quando l'amore è passato e perché in questo dialogo tra Flaubert e Colette dice perché quando si vive un amore è già di per sé poesia questo silenzio è bellissimo allora la prima domanda che faccio a Rita Pacino Rita la tua sensibilità io l'ho vissuta incontrandoti logicamente io sono una persona estremamente sensibile estremamente riflessiva non mi faccio sfuggire nemmeno l'ala di una mosca davanti al naso bellissimo sciopeniano mendelsoniano quindi dico dico cara Rita come mai hai dovuto scegliere di scrivere per esempio e perché hai scelto la poesia e come siamo giunti poi al romanzo è una curiosità di tutti e come mai la musica la musica così affascinante e marginale oppure poteva essere una attività ricordiamo che Rita ha fatto un disco con uno dei più grandi jazzisti italiani Claudio Fasoli e perché? perché Claudio Fasoli intelligentissimo grande artista ha pensato ad una originalità guardate che i musicisti sono tremendi parlo in prima persona sono terribili i musicisti perché cercano nella coniugazione tra le arti la propria mistura di originalità per dire io sono perché il musicista è un narciso non ci sono dubbi non essendoci tangibilità col suono affiora l'immagine in prima persona quindi Rita cosa fa? esplica una qualità della declamazione Clank Farber Melody era praticamente l'arte di mettere i timbri insieme Schoenberg ma lo Spreken Sam era la declamazione di natura artistica senza cantare un declamato recitato che crea un'originalità straordinaria che viene dalla cultura ebraica la più importante cultura del pianeta perché? perché tutta la musica nasce come coniugazione dell'uomo con Dio la propria centralità e questo popolo ha aperto gli altari alla musica greca incredibile quindi chiediamo questo percorso che ti ha portato a assorbire tante ricchezze quale sintesi oggi al cospetto di questa conquista ti pone nella tua maturità perché guardate e vi cito un'altra cosa Mila Kundera in un libro prodigioso intitolato l'arte del romanzo Rita Pacilio è poetessa attenzione quindi ci sono dei cecchini che dicono vediamo Rita se è brava anche a scrivere romanzi è chiaro questo è come se io mi metto a fare il poeta e dico wow vediamo se questo giovanotto che fa il musicista è in grado di fare anche il poeta e io tiro fuori l'arma di Wagner cioè che Wagner scriveva i propri testi e faceva le sinfonie ok quindi Rita cosa fa assorbe tutte le qualità che vengono dalla musica e implicitamente questa qualità entra dentro il contesto poetico con una ricchezza che non ha uguali perché chi è dotato di musica ha una marcia in più purtroppo bisogna ammetterlo è un'oggettivizzazione per eclettismo a questo punto cediamo la parola a Rita per capire scusami Rita Mila Kundera dice praticamente nell'arte del romanzo che bisogna arrivare ad una determinata maturità per poter capire qual è il proprio ruolo incredibile Janashek grande musicista a 45-50 anni non sapeva chi fosse e questo è importante a un certo punto diventa a 70 anni famoso in tutto il mondo per aver scritto la sinfonietta allora morale che ci racconterà anche cosa significa abbracciare una editoria rp libri rita pacilio libri attenzione dove in pratica la maturità è anche quello di vedere forse sfumato l'obiettivo di gioventù di arrivare al gota dell'editoria ma perché signori la vita ci vuole ambizione la modestia lo dico sempre è la virtù dei mediocri ricordatelo e l'umiltà di cui rita ha un cuore e mezzo è la virtù dei grandi a te la parola rita per capire come dalla tua tenera età diciamo dieci anni cruciale a dirsi arrivi oggi a questa maturazione di questo tuo secondo romanzo ma ce ne sarà anche un terzo ce ne saranno altri perché non bisogna fermarsi mai Filippo per le cose che hai detto mi sono sentita un po' extraterrestre un po' non lo so non questa io sono una persona semplicissima che come tutti gli esseri umani si lascia prendere dalla vita la vita ha deciso per me non ho deciso io niente io avevo quattro anni ed ero già stata selezionata per l'Antoniano ma poi si è ammalato mio padre e poi varie vicende familiari e sono rimasta comunque a casa e la mia vocazione se vogliamo chiamarla così la mia missione ma anche il mio talento che non ho scelto io di avere ma che mi è stato donato che è un dono che sono doni che abbiamo tutti e a volte ecco l'importante è riconoscerli l'importante è crescere con questa consapevolezza che un dono debba fruttare debba essere anche elargito condiviso con gli altri tutte le cose che ci teniamo per noi non hanno nessun valore finiscono lì non si vedono non fanno frutto non prendono aria e non vanno verso la luce verso il sole quindi la cosa bella è proprio condividerla la vita ha deciso per me perché a nove anni ho perso mio padre e non è nemmeno corretto dire ho perso perché fondamentalmente io non l'ho perso mai perdere o smarrire qualcosa o una persona significa non vederla più ma significa forse fondamentalmente averla lasciata per strada io mio padre ce l'ho con me ce l'ho nel colore dei miei occhi e ce l'ho anche nell'intelligenza che insomma mi unisce ancora a quella persona con tutti i difetti che aveva però un padre di sei figli premuroso e giovanissimo di 40 anni che si è ammalato e che in tre mesi è sparito ed è cambiata tutta l'esistenza lui è in paradiso sicuramente e forse l'ho anche incontrato durante il mio coma ma questa è un'altra è un'altra storia questo evento così importante fondamentale ha creato in me l'orfanità l'orfanità che significa non avere più un punto di riferimento non avere più una una indicazione perché resti veramente solo anche se con tante sorelle e con una madre anche se condividere con una madre anaffettiva e fondamentalmente anche depressa una una vita difficile quindi crescere nel sacrificio ma anche nella gioia perché tutte le mie sofferenze tutte le cose che io ho vissuto nella mia vita tra poco avrò 60 anni e c'è da festeggiare tanto perché ho avuto un dono grandissimo quello di avere tanti anni a disposizione per poter amare perché poi il messaggio grande ecco della mia esistenza vorrei che fosse proprio questo il coraggio di amare sempre e tu ne parlavi dell'amore che è una cosa fondamentale perché tocca non solo i titoli di molti libri che ho scritto ma anche un discorso relazionale che ho con le persone care ma anche con le persone che non conosco e ho avuto la fortuna dicevo di essere in una classe con una maestra poetessa e lei ci ha insegnato sin da piccolissimi quindi già dalla seconda elementare a leggere le poesie a entrare in qualche parola difficilissima ma che comunque ti faceva battere il cuore ti metteva in uno stato di apnea era la bellezza che non si sapeva descrivere e la bellezza fa questo effetto ti lascia veramente col fiato corto corto e quindi avere la possibilità di leggere di leggere bei libri è stata una grande fortuna ma attenzione solo libri scolastici perché essendo la terza di sei figli non era facile poter comprare i libri quindi la mia biblioteca è cresciuta poi col tempo e grazie a Gianfranco che a 22 anni mio marito mi ha regalato tutta la sua biblioteca non solo di dischi ma anche di libri e quindi ho avuto la fortuna di fare proprio delle scorpacciate di lettura anche di cose che non avevo ancora letto leggere significa scrivere anche scrivere mentalmente poi dopo il passaggio sul foglio viene quasi automatico voglio raccontare una cosa simpatica comunque molto innocente che a 4 anni ho scritto la mia prima partitura di musica ho scritto un quaderno di la 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 all'infinito e io ce l'avevo nella testa quella musica che era meravigliosa il giorno dopo quando ho guardato per riprenderla semmai continuare o fissarmi in qualche parte, ho visto fogli tutti uguali, tutti uguali senza melodia e lì ho capito, ma ero piccola, ho capito che la musica era quella che sentiamo dentro, è quella che noi abbiamo e che portiamo anche nel nostro modo di muoverci, nel nostro modo di parlare e quindi la performance di cui parlavi prima, cioè il modo di performare, di parlare, che mi sono portata dietro nel tempo e che musicisti di fama nazionale, internazionale, che hai menzionato, tra cui Claudio, hanno colto e questa cosa è stata anche un'altra storia, che però si è andata a intrecciare con le parole, con le poesie, immediatamente ho avuto la necessità di parlare, di parlare a mio padre, non lo so, di parlare a mia mamma nel letto con il lenzuolo sulla testa perché non aveva voglia più di vivere, non lo so, o forse di parlare agli angeli, anche quello, ma nemmeno lo sapevo, oppure di parlare a qualcuno per avere una corrispondenza, una connessione, parliamo di connessioni stasera, e quindi è stato un bisogno che non sapevo, non conoscevo, non capivo la causa, la natura e ho cominciato a scrivere, ho ancora conservato questi quaderni che adesso a rileggerli mi fanno una tenerezza incredibile, è come quando parlo con i miei figli, io quando parlavo con i miei figli da piccoli, i bambini ti fanno sempre tenerezza e lì ho trovato la bambina che ho iniziato a prendere per mano e mano a mano l'ho accompagnata in questa vita perché non fosse più sola, perché la causa forse più grande della scrittura è nella solitudine, nel voler comunicare, nel voler dire comunque qualcosa di sé, ma attenzione, non a livello di sfogo, di diario, di, non so, un'esternazione, fine a se stessa, no, erano messaggi forti che volevo lanciare, dare, tipo salvaguardare la natura, per esempio, salvaguardare le persone più fragili, avere la capacità di amare anche coloro che sono sempre ai margini della società e quindi ho cominciato anche a formarmi in questo senso. Sono diventata, andando avanti con il tempo, sociologa, mediatrice familiare dei conflitti interpersonali, studiosa dell'animo umano, laureata e specializzata in psicologia sociale, quindi tante cose che mi davano un senso di pienezza per relazionarmi con gli altri. Gli altri per me, le persone, ma anche le piccole creature del nostro ecosistema o comunque del nostro mondo, sono troppo preziose. Ognuna di noi conserva qualcosa di importante, di prezioso, che va comunque rispettato innanzitutto e accolto, perché siamo tutti con tante cose da dire, abbiamo tutti un'esperienza che si può condividere e che può arricchirci quando ci mette in una comunicazione, in una comunione. Ecco, creare comunione è un grande compito, forse non basta una vita per farlo, però ci si prova. E quindi le mie scritture sono andate dalla poesia alla prosa poetica, alla saggistica, alla letteratura per bambini, sono usciti da poco alcuni piccoli libri suggestivi che poi parlano di ambiente oppure di salute, di salvaguardia della persona, di cura della persona e quindi di se stessi, perché se riusciamo ad amare noi stessi siamo in grado di amare anche gli altri. Ed è una cosa bellissima, ed è stata una cosa bellissima, poter avere anche la possibilità di entrare nel mondo della narrativa. Perché dico entrare nel mondo della narrativa? Perché è uno studio completamente diverso. Allora, la saggistica per me mi viene facile perché è uno studio, quindi hai del materiale, ci lavori sopra, non devi esprimere un tuo parere, ma devi rendere fruibile quel sapere per poterlo poi condividere con gli altri. Quindi è uno studio, una modalità, una metodologia. La letteratura per bambini mi viene facile perché ho tre figli, perché sono stata terza di sei figli, perché ho un fratello autistico, quindi parlare, sono cresciuta con un fratello autistico, quindi parlare con i bambini mi è sempre venuto facile. E ho fatto anche tanti lavori con bambini anche disabili, quindi è stato bello anche intraprendere, e anche semplice se vogliamo intraprendere questo discorso. La prosa poetica è stato uno studio, e lì ho dovuto confrontarmi con maestri per poter capire quando e come si può costruire una prosa poetica, perché noi sappiamo come si costruisce un verso, sappiamo come si scrive una frase di senso compiuto, che può essere prosa, narrativa o altro, o un articolo di giornale, ma come si scrive la prosa poetica non lo sappiamo bene, perché è una cosa che scivola tra la poesia e poi la prosa. Fatto questo percorso ho cercato di mettermi in contatto con delle scuole di scrittura nazionali per poter apprendere qualcosa in più riguardo alla narrativa, che poi lo sai perché hai letto tanto, lo capisci che sei di fronte a un romanzo di formazione oppure a un romanzo storico, lo sai, o fantastico o altro. Comunque, però non si sapeva abbastanza, non ero soddisfatta abbastanza. E ho intrapreso un altro percorso di studio che mi ha portato a sperimentare, anche se l'avevo già fatto, il mio primo romanzo che è Cosa rimane. E in realtà prima del primo romanzo c'è una serie di racconti, L'amore casomai, che sono appunto questi racconti in prosa poetica, brevissimi, fulminei, dove la parola viene proprio scarnificata fino in fondo, dove il ricercare, come per la poesia, la parola adeguata, quella giusta, quella che comunque è talmente mostruosa da farti tremare l'anima, così come diceva Rimbaud. Allora significa che si poteva procedere verso la narrativa. La mia è una narrativa sicuramente di formazione perché i miei personaggi vanno dal passato al presente e quindi crescono nella storia, nella trama. E soprattutto sono molto evocativi perché mi piace conservare la mia caratteristica poetica e cioè quelle parole che mi portano a trovare più sensi, più significati di una stessa parola o addirittura il significante che è ancora una cosa visionaria, ecco, e che mi piace assolutamente conservare nelle storie. Non è, ci tengo a precisare, che non è la storia la protagonista di qualunque tipo di scrittura, ma è il come questa storia viene raccontata. Quindi che cos'è? È il linguaggio. Noi abbiamo tanti linguaggi, la musica, la parola, quindi la scrittura, la pittura, la fotografia. Abbiamo tante forme di espressione, ma il linguaggio che caratterizza un autore, quello che tu scegli con la consapevolezza di sapere che stai facendo proprio quello, allora lì trovi la peculiarità, la professione, se vogliamo, la serietà anche di chi scrive. Quindi tutti scrivono, tutti scriviamo, va bene, ognuno faccia il proprio lavoro, il proprio, che ne so, anche sogno, ecco, perché per molti pubblicare è un grande sogno. Invece in realtà a me è venuto facile, anche perché sono 30 anni che lavoro nell'editoria, ho collaborato con molti editori, mi sono trovata a dirigere molte collane, sia di poesia che di narrativa, quindi è stata una bellissima esperienza quella di avere il contatto diretto con l'elaborazione di un testo ed essere in contatto con l'autore, perché l'autore, qualunque esso sia, di qualunque livello esso sia, perché è vero che bisogna sapersi misurare, però è giusto che tu parlavi di ambizione, più di ambizione, voglio dire consapevolezza del punto dove siamo e dove vogliamo andare, ma la cosa fondamentale è la progettazione, essere sempre vigili sull'obiettivo, avere chiari i punti, gli step da fare per poter parlare agli altri. Quindi un libro è proprio questo, una grande comunicazione, un portare significato sicuramente, ma soprattutto linguaggio, portare una modalità, aggiungere qualcosa. Se ci rendiamo conto che abbiamo veramente aggiunto qualcosa all'arte che è già piena, è stato già detto tutto, è stato già fatto tutto, forse potevamo fermarci alla Divina Commedia, pensa te, però quando si aggiunge in maniera costruttiva un piccolo granello, non parliamo di tasselli o di segmenti, ma proprio veramente un piccolo granello a quello che è stato già fatto, allora è valsa la pena vivere. Lasciamo la parola alla musica e ascolteremo un contributo per creare un'atmosfera all'argomentazione che poi affronteremo rapidamente per poter poi entrare nell'argomento. Prego. La parola alla musica La parola alla musica La parola alla musica La parola alla musica l'acqua da un po' nel bar tanto l'aria sa da gagnare se va a scurri par la luna e ta vista va sa te per te ogni cosa va parla ma di resta ne parola e ho scurri da me ma va sanna che ho coruna vota l'occhio e se va e ho spietta che chiama l'acqua da un po' nel bar tanto l'aria sa da gagnare ma va quando chiama l'acqua da un po' nel bar tanto l'aria sa da gagnare la scelta della musica a volte così evocativa ci riporta a qualche nostro vissuto e il bambino d'oro ha una caratteristica talmente particolare che quando io l'ho letto mi sono preso tanto tempo tanto è vero dicevo a Rita non ho ancora terminato immaginavo che probabilmente Rita avrà pensato cosa c'hai da leggere qui cioè quello è breve guardate la sintesi la densità di un romanzo la prima domanda che faccio a Rita Facilio innanzitutto il titolo è bellissimo il bambino d'oro guardate che l'oro è mistico l'oro è la condensazione della luce solare quindi questo bambino d'oro non sappiamo il motivo per cui è d'oro lo dovete scoprire voi dovete leggerlo però lo scoprirete questo bambino vive in una località a me molto familiare la Basilicata si viene scelto insomma una location che richiama i grandi della letteratura pensate che Francis Ford Coppola la figlia ha comprato una casa in Basilicata vicino Matera quella zona qui si parla di Ferrandina che è una zona molto particolare bellissima guardate che la Basilicata ci sono dei campi di grano lucus bosco licos lupo è la mia terra ho voluto fortemente la presentazione di questo libro ci sono all'interno delle storie che mi toccano perché? perché io conosco bene i posti e ho lasciato la mia Basilicata a quattro anni un po' come il grande Cesare Pavesi ha lasciato la sua Santo Stefano Belbo per trasferirsi a Torino certo il confronto è riverente perché Pavese è ricordato per un gesto estremo sempre frutto dell'amore cosa accade in questo romanzo particolare? il protagonista torna praticamente nel luogo di origine quindi un eterno ritorno è il classico anche della musica Friedrich Nietzsche con il suo Sprach Zaratustra Wagner con il Parsifal queste storie particolari noi torniamo quando accade qualcosa di importante insomma nella storia il protagonista torna in questo luogo e ha una Madeleine questa Madeleine assurge con un'argomentazione oggi molto di moda lo devo ammettere basta che noi mettiamo un po' di sesso all'interno di qualsiasi condimento e la gente spalanca le antenne logicamente Rita Pacilio guardate l'amore è casomai no? sono tanti bei racconti particolari dove uno dice ma come si fa a scrivere di questa grande componente che è la sessualità perché l'amore come dice anche Grossman è la A tutto torna alla sessualità la sessualità è la libido di ogni situazione quindi il protagonista ritorna alla sua infanzia e scopre di aver scoperto l'amore attraverso una sua coetanea ora chiediamo a Rita come nasce questa storia perché all'interno noi leggiamo che addirittura c'è scritto qua ispirato a una storia vera certo le storie sono vere la vita è anche una grande scommessa una grande farsa eccetera quindi introduci in maniera semplice questa semplice intendo dire in tempi estretti non perché debba tu semplificare la risposta ma perché c'è una accezione di tal senso pensiamo al Carlo Levi no la Basilicata del Carlo Levi pensiamo alla Basilicata di Pierpaolo Pasolini insomma argomenti particolari quindi questo protagonista che torna nella terra di origine è ricorda una condizione dove alcune recensioni di cui io posso anche come dire accettarle o no marcano la linea su una problematica di natura psicologica avremmo dovuto avere qui degli psicologi non è stato possibile ma mi sono dovuto documentare su cosa accade guardate nel cervello umano noi siamo il nostro cervello di X-Wab un libro che io avevo da anni dove praticamente scatta qualcosa di micidiale all'interno del nostro cervello per poter far affiorare anche una patologia nel romanzo si parla di onanismo cioè di una masturbazione che il protagonista affronta come una sorta quasi oserei dire di ansia di prestazione e quest'ansia di prestazione lo connette con una realtà che è una Madeleine Proustian cioè ricorda un evento e vive la propria vita da cinquantenne quindi ogni accezione scatta come una violenza quasi su se stessa o su se stesso in questo caso dove il protagonista affronta la propria ansia con un rituale masturbatorio che è tipico di un feticio il feticio no? io ho un oggetto che tocco quasi superstizioso affinché mi possa dare l'opportunità di affrontare un'azione ti cedo la parola ed esponi la tua opinione al riguardo essendo un romanzo dove tu puoi celare o non celare quello che ritieni fortuna allora abbiamo detto che è un romanzo quindi ispirato a una storia vera perché tutta la mia scrittura comunque nasce da situazioni che ho conosciuto che ho toccato che ho visto molta scrittura anche poetica riguardo a violenza sui bambini violenza fatta alle donne vendita dei corpi dei bambini e tante altre cose vengono dai miei studi dalle conoscenze di esperienze anche di altre persone diciamo che nella scrittura mi sono fatta portavoce così come dicevo prima non soltanto del mio modo di di sentire di provare la vita ma anche di quello che mi accadeva e che mi accade intorno osservare il sociologo osserva osserva e mette a fuoco questo lo fa il poeta mette a fuoco qualcosa cosa che in questa lente non tutti riescono a vedere parto dalla poesia quindi questa argomentazione di questo libro è una metafora è semplicemente una metafora perché mi sono occupata dell'ossessione della coazione a ripetere del ricadere del ritornare anche il tornare nel paese nativo il tornare a toccare il proprio corpo per avere consapevolezza di esserci per avere consapevolezza della realtà e il tornare a alle paure infantili ai ricordi infantili a quelle persone che hanno determinato una nostra conoscenza come la conoscenza del nostro corpo non tutti l'abbiamo fatta da soli a volte anche insieme ad altri bambini sulla spiaggia non so avete visto tante volte i bambini che comunque si tolgono i costumini con una ingenuità una semplicità bellissima e con innocenza ecco quindi voglio dire questa esperienza poi alla fine il protagonista la riconduce e se la porta dietro quasi come una un'iniziazione quindi è tutta una metafora lo voglio dire e ciò che mi preoccupava e ciò che volevo comunicare è il sentimento per me i personaggi quando prima di scrivere decido ecco programma programmo progetto quali sono i personaggi stilo una certa carta di identità non soltanto fisica ma anche psicologica cerco di pensare in quel momento che tipologia di reazione può avere questo personaggio se piove e se non piove cosa può succedere se viene a contatto con altre persone come reagisce cosa risponde quindi ecco organizzarsi il lavoro per poi scrivere una storia è proprio questo e ciò che mi interessa è l'animo umano è la sua tensione verso il mondo verso gli altri e soprattutto le patologie ecco ce ne sono tantissime noi a volte la nostra fragilità ci ci fa chiudere ce le fa tenere un po' in sordina ne abbiamo vergogna non ne parliamo con facilità mentre invece sono cose che comunque ci riguardano che riguardano la nostra essenza di essere umani l'essenza di quello che siamo fatti e quindi questi posti io li ho scelti anche perché li ho conosciuti conoscendo Assunta Finiguerra quindi entrando un po' in quelle zone che ho sempre amato e che mi hanno colpita negli anni passati quando ho scritto questa storia durante il lockdown quando non mi è stato possibile poter andare sul posto quindi ecco il progettare studiare scrivere sono andata su google mappo e io ho fatto il viaggio del protagonista sono andata per quelle strade me le sono viste me le sono visitate ci siamo anche confrontati su alcune cose lui mi ha dato molti suggerimenti molti spunti per poter raccontare dei posti o delle caratteristiche ci sono proprio degli appunti che io ho preso quando ne parlavamo quindi ecco la progettazione lo studio l'organizzazione del materiale e poi è venuta fuori questa storia con la sua fragilità con la sua tenerezza con tutti i risvolti psicologici mentali ciò che gli altri vedono noi non siamo mai quello che pensiamo di essere siamo anche quello che gli altri vedono quindi vedono un bambino d'oro quando era piccolo il protagonista con i capelli riccioloni pieni di sole e siamo questi siamo anche pregiudizio siamo pregiudizio perché siamo un soprannome non c'è il nome del protagonista qui non viene mai fuori il nome del protagonista lui si chiama il bambino d'oro anche quando a 50 anni sta anche perdendo i capelli che sono anche diventati bianchi e cioè è sempre quel bambino d'oro che porta dentro ecco più o meno penso di aver risposto cediamo un altro stacco musicale così abbiamo l'interiorizzo un altro stacco There I've been lost in my hand in forever I know there is hope in this world But I can't breathe myself to swing when I am driving In this silence, baby, let me go easy on me, baby I was still a child, didn't get the taste of I can't breathe around, I have no time to choose What I choose to do, so go easy on me There ain't no room for a thing to change When we are both so deeply stuck in our ways You can deny how I have tried I change you, I know I'm almost too But you go first, but now I can't breathe Oh, it's your only time I was still a child, didn't get the taste of I can't breathe around, I have no time to choose What I choose to do, so go easy It's easy on me I can't breathe around, I have no time to choose I can't breathe around, I have no time to choose I can't breathe around you Don't realize the secret Of a book I read it God doesn't know the lie But we have disseminated di argomentazioni un po', i Boom ci sono quindi alcune considerazioni veloci da fare le leggiamo, che sono quelle che, come dire, rientrano nella fase psichica dell'argomentazione che andrete a leggere nel libro e poi faremo leggere a Rita uno stralcio del libro. Così ci salutiamo tutti contenti di aver disseminato dei semi in un terreno che dovrà vederli crescere senza darvi la pianta già bella e fatta. Allora vi leggo uno stralcio praticamente di quel che accade nel cervello quando siamo innamorati. Il protagonista bambino è cervello. Guardate che la ragione non può niente contro il cervello. Che strana affermazione, come se la ragionevolezza fosse il cervello. Il cervello è un sistema aperto che comprende la ragionevolezza, non è la ragionevolezza. E guardate che bella affermazione questo scienziato dice quando succede l'innamoramento. Figuriamoci se l'innamoramento accade nell'infanzia. È indelebile. È una cosa potente. Una cosa che non si potrà cancellare nemmeno se dovesse accadere una degenerazione di natura cerebrale. Dice lo scienziato, ve lo cito il nome di questo ricercatore. Big swab. Noi siamo il nostro cervello. Gli innamorati presentano una più elevata concentrazione nel sangue dell'ormone dello stress, il cortisone. A dimostrazione della situazione carica di tensione in cui si trovano. Quindi immaginerete cosa accade al protagonista quando a un certo punto la sua memoria affiora nel tornare, nel ritorno. Sottolineato da Rita. La stimolazione delle ghiandole surrenali in questa risposta allo stress provoca un aumento di testosterone nelle donne e una sua diminuzione negli uomini. Guardate un po'. Sapete cosa dice il mito greco dell'amore? Che Marte deve essere disarmato da Venere. E se Marte perde testosterone, tenere chi disarma. Si è rovesciato il sistema. Vi lascio riflettere su questo. La masturbazione potrebbe essere una compensazione di ciò che il sistema ha offerto grazie alla sua rottura. Non aggiungo altro. Andiamo avanti di pochi passi, perché tanto stiamo in dirittura di arrivo, stiamo tagliando il nastro per dire è stata una bella serata. A un certo punto abbiamo. Solo quando l'innomoramento perdura da tempo si attiva anche la corteccia prefrontale, la parte anteriore del cervello, con la quale si pianifica e si effettuano valutazioni. Immaginate. E quando la coppia si stabilizza, perché è sempre una relazione a due, anche con se stesso è una relazione a due, attenzione, dell'asse dello stress, vedete, l'attivazione e i cambiamenti quindi della concentrazione del testosterone scompaiono. E a un certo punto praticamente anche la psicosi, le cosiddette malattie mentali intervengono all'interno di questo meccanismo. Quindi l'elaborazione sensoriale che avviene nella corteccia gioca un ruolo proprio nel periodo eccitante, guardate. In fin dei conti quel partner lo abbiamo visto, toccato e ne abbiamo percepito l'odore. Guardate che nella ricerca del tempo perduto, Proust dice la stessa cosa. Quindi abbiamo che solo quando l'intenso innamoramento è terminato, la corteccia cerebrale prende il sopravvento. Quindi, guardate che bellissima conclusione, se uno dei vostri figli è innamorato della persona sbagliata, non rimproveratelo dicendogli che doveva usare il cervello. L'ha fatto. Ma quelle parti della corteccia cerebrale che dopo un'attente e ponderata riflessione avrebbero potuto portare ad una scelta diversa, come la corteccia prefontale, purtroppo intervengono nel processo troppo tardi. A te la parola, Rita. Bene, allora tutti gli spunti di riflessione che un libro può dare sono sempre interessanti, anche perché poi, ecco, da un libro ogni lettore ne trae il proprio significato, legge delle cose che al limite non erano state nemmeno previste. Insomma, è bello trovarsi di fronte a tanti altri mondi e potersi confrontare, soprattutto da lettore. Questa è un'esperienza molto bella. Io ti ringrazio, Filippo, ringrazio tutti voi e vi lascio con qualche frase presa qui e lì. E' uguale a come l'ho lasciato da bambino. Appena imbocco la strada interna che porta alla collina materana sento di essere già a casa. Il borgo di Ferrandina sembra conservare sempre lo stesso mistero. Dalla valle del Basento lo vedo dominare il paesaggio sottostante. È un'opera d'arte con quelle casette tutte attaccate una all'altra e intervallate dalle scalette dove abbiamo giocato al nascondino. Tutta l'infanzia. Quando arrivo in paese mi soffermo a guardare l'insegna del bar della piazza per cercare quella che per me è ormai una conferma. I quarant'anni passati non hanno cambiato niente. Camminare per queste strade mi fa sentire battagliero e ribelle così come pensavo di essere un tempo. E' come sapere che a ogni passo porto con me la memoria dei greci, dei longobardi e dei normanni fino ad arrivare a Crocco, il brigante. E' mia madre, una delle donne più anziane del paese adesso, e mi aspetta seduta dietro i vetri con la sua solita espressione che io conosco, quella già pronta per un bacio. Sono vittima. Sono incapace di ipotizzare che questa mia ossessione stia sconvolgendo la mia dignità. Le astuzie e i sotterfuggi hanno il difetto di distogliermi dalla responsabilità di chiamare per nome il mio problema. Anche durante i colloqui a scuola ho dovuto affidarmi a uno stratagemma, scappare in bagno con una scusa per concedere alla voce che porto dentro di manifestarsi nell'unico modo che riconosce, anziché fiammeggiare lì, trincerandosi dietro a una solitudine che nessuno potrebbe varcare. Grazie. Quando la parola termina, la musica ha inizio e chiudere con la musica. Grazie. 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 Io sono Andrea Ferrara e lei è... Chiara Francesca Sasso. Grazie. Maria, vuoi chiudere? Sì, due parole. Saludiamo. Grazie. Grazie. Prima di tutto ringraziare Rita Facilio perché mi sono veramente commossa, interessata e sono entrata in una dimensione diversa, quindi mi ha fatto molto piacere e Filippo che ha coadiuvato questa bella atmosfera di stasera, veramente micidiale direi micidiale. La stessa cosa ringrazio i due ragazzi e il maestro Ascione perché in realtà la musica ha praticamente coinvolto e coadiuvato questa atmosfera molto interessante. Abbiamo sentito delle cose profonde sulle quali riflettere e quindi vi lasciamo con questa bella cosa, bella suggestione, belle cose su cui pensare. Grazie ancora, vi ringrazio e alla prossima attività. Grazie.